Iniziamo parlando di mal di schiena. Mal di schiena che colpisce un italiano su due, almeno una volta nella vita tutti. Siamo stati colpiti da questo dolore. Beh, quando il mal di schiena però dipende dallo scogliosi, ci sono delle cure, delle terapie da dover affrontare. Insomma, parleremo di tutto questo con il professor Cesare Faldini, che vede in collegamento. Bentornato al mio medico, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Monica, buongiorno. Buongiorno. Beh, allora iniziamo subito perché è davvero una patologia molto frequente, il mal di schiena. Ma allora, quando, che cosa succede? Io volevo sapere quali sono i sintomi del mal di schiena dovuti alla scogliosi e come si svolge una visita. Allora, questa è veramente un po' la coppiata tra un sintomo molto comune, il mal di schiena, e una condizione che non tutti hanno, cioè la scogliosi. Allora, se si parte dal mal di schiena, ovviamente sono dei sintomi che abbiamo tutti avuto almeno una volta, una contrattura, un dolore posteriore. La scogliosi, però, è una deformità della colonna vertebrale molto più rara. Quindi, nella visita, la prima cosa da fare è capire se ci sono entrambe le condizioni. In pratica, si ascolta il paziente, il suo sintomo, si va a vedere naturalmente la sua colonna vertebrale, se ci sono delle contratture, ci si fa indicare il dolore, e poi, ovviamente, si vanno a cercare alcuni segni caratteristici della scogliosi, che sono delle asimmetrie, perché ricordiamoci che la colonna guardata da dietro verso davanti dovrebbe essere perfettamente simmetrica da destra verso sinistra. Quindi le spalle dovrebbero essere alti uguali, le scapole uguali e i fianchi uguali. Ora, davanti a queste ipotetiche asimmetrie, se sono accoppiate con il dolore, saremmo un po' davanti a un paziente che ha un problema di lombalgia e scoliosi. Ecco, in questo momento, professore, stiamo leggendo nel cartello tutti i sintomi dovuti alla scoliosi, perché oltre al dolore c'è qualcosa in più che possiamo dire ai nostri telespettatori. Allora, è naturale, perché quando il paziente ha la scoliosi e il mal di schiena, ha sia un disallineamento della colonna e quindi i fianchi asimmetrici, la testa che non cade al centro rispetto al piano del bacino, le spalle un pochino di altezza diversa e in più ha i sintomi di dolore, quindi la contrattura muscolare e ovviamente la difficoltà a piegarsi, il dolore che lo limita. Professore, ma cosa succede alla nostra colonna? Allora, si deforma e basta? Che succede? Allora, diciamo innanzitutto che le scoliosi sono tantissime, ma sono poche quelle veramente preoccupanti, perché innanzitutto non siamo stati fatti col goniometro, quindi piccoli disallineamenti della quantità di 10 gradi sono talmente frequenti, circa il 30% delle persone, che non ci devono preoccupare. Sarebbero le scoliosi lievi, poi ci sono le forme intermedie che sono un pochino più gravi, cioè sopra i 20 gradi e quelle vanno guardate con attenzione e poi ci sono le rare forme più gravi. Allora, quando c'è una forma lieve, questa è semplicemente un fattore di rischio per avere la lombalgia, perché non sempre chi ha una piccola scoliosi per forza deve avere delle conseguenze di tipo clinico e quindi il dolore. Professore, la prima cosa che fanno le persone quando soffrono, soprattutto quando riguarda la schiena, si affidano al primo antinfiammatorio che hanno a casa, addirittura molte persone, magari hanno avuto già mal di schiena, prendono il cortisone. Allora, questi farmaci per quanto tempo devono essere assunti e se invece possono essere evitati? Le cure si possono iniziare con i classici farmaci da banco, se sono avvenute così repentinamente, se no bisogna andare dal medico e stabilire uno schema di trattamento. Usare solo i farmaci non aiuta, bisogna sempre associare ai farmaci una buona riabilitazione e rimuovere i fattori di rischio. Quindi il paziente che ha la scoliosi, magari lieve e il mal di schiena, oltre a prendere i farmaci per un tempo limitato, sotto controllo del medico curante, deve stare attento e correggere magari il sovrappeso, fare una vita attiva e recuperare un po' di muscolatura per evitare di peggiorare la sua situazione. E professore, lei ha parlato di riabilitazione, dunque la fisioterapia può aiutare? La fisioterapia è fondamentale perché la nostra schiena, e cioè l'apparato diciamo vertebrale, è sostenuto dalla muscolatura. Quindi se c'è un piccolo disallineamento, lavorando sulla muscolatura, è possibile dare un sostegno alle ossa e evitare il peggioramento. Quindi una colonna vertebrale tenuta in forma, una colonna vertebrale con una buona muscolatura, anche se ha una piccola scoliosi, risulta meglio tollerata durante tutta la vita e naturalmente ha meno problemi di episodi di lombalgia. Allora, professore, rispondiamo adesso a Greta, ci scrive da Udine e ci chiede Ho 65 anni e mi hanno diagnosticato la scoliosi. Basterà portare il corsetto per guarire? Chiariamo subito che il corsetto per curare la scoliosi è un rimedio del periodo dell'adolescenza. Cioè il corsetto è fondamentale quando durante la crescita si individua una forma lieve o moderata di scoliosi e si vuole far bloccare il peggioramento. Greta, 65 anni, ormai la crescita l'ha superata, quindi il corsetto nel suo caso non è indicato. Quando si ha un'età di, diciamo, ormai matura e iniziano i sintomi di dolore e scoliosi, si devono rimuovere i fattori di rischio, cercare quindi di rinforzare i muscoli, usare al massimo una piccola cintura lombare quando si ha mal di schiena per tempi limitati e cercare di convivere con questo problema. E allora, professore, quando invece è necessario fare l'intervento chirurgico? Naturalmente, se il rapporto di convivenza diventa difficoltoso, perché i periodi di dolore non si riesce a contenerli attraverso le medicine e la rimozione dei fattori di rischio e la fisioterapia, c'è effettivamente un intervento. Ed è bene chiarire che le scoliosi che progrediscono nell'età adulta verso l'intervento sono pochissime. Sono delle grandi eccezioni. Cioè, sono quelle piccole scoliosi che, pur muovendosi di un grado o due l'anno, nell'arco di 30-40 anni, spostano l'asse delle spalle del paziente al di fuori del bacino e quindi si ha proprio un effetto un po' a torre di pisa, dove la colonna, nello spostarsi in questo modo progressivamente, porta a una pendenza di tutto il tronco. Allora diventa molto faticoso stare in piedi, diventa faticoso camminare. Poi può capitare che il disallineamento sia anche sul piano sagittale, cioè di fronte, quindi che la testa va a cadere davanti rispetto al bacino. Entrambe queste condizioni, se si associano a un dolore continuo, devono essere ben valutate in ambiente specialistico, perché oggi la tecnologia ci permette effettivamente di affrontarle chirurgicamente. E anche la ricerca, no? Per quanto riguarda gli interventi chirurgici. Voi lì al Rizzoli di Bologna siete un'eccellenza italiana, l'ho detto anche in apertura. E allora, come si svolge un intervento chirurgico proprio per tranquillizzare le persone che ci stanno seguendo? Allora, l'intervento chirurgico si è ridotto molto negli anni come invasività. Rimane sempre un grande intervento e diciamolo pure il più grosso intervento dell'ortopedia. Però l'evoluzione delle tecniche anestesiologiche, infermieristiche e ortopediche ci permettono di proporlo anche a pazienti adulti e addirittura anziani quando un tempo era solo un intervento per giovani robusti. Oggi si applicano delle viti al titanio nelle vertebre e le viti al titanio vengono connesse con delle barre dopodiché si esegue una manovra che riallinea gradualmente la colonna vertebrale. è una fase sicuramente delicata richiede in sala operatoria la presenza di un neurologo, un neurofisiologo che attraverso dei potenziali fa vedere che il midollo spinale possa tollerare queste manovre in ambienti specialistici si affronta in serenità pur sapendo che è un intervento molto grosso ma oggi si possono recuperare questi disallineamenti quindi riportare al paziente le spalle sopra il bacino evitare che penda in avanti ridando quindi a persone anche mature la possibilità di un'autonomia personale che altrimenti avevano perso. Parliamo del post-operatorio dopo un intervento del genere allora dopo quanto tempo la persona la rimettete in piedi e quando torna ad una vita normale? Allora il risveglio si fa prudenzialmente in terapia intensiva non perché questo sia una cosa preoccupante ma solo perché c'è un'attenzione in più in piedi si va il giorno dopo quindi c'è una precocissima riabilitazione i fisioterapisti aiutano ad alzarsi si cerca di mandare in bagno il paziente in modo autonomo il giorno dopo l'intervento fare le scale due o tre giorni dopo ed andare a casa in circa cinque giorni. Ovvio che c'è un periodo di convalescenza a casa in cui o si porta un leggerissimo bustino per ricordarsi di essere operati o niente qui dipende molto dalla qualità dell'osso perché diciamoci pure che ci sono condizioni anche di osteoporosi che richiedono una maggiore tutela dell'intervento nel primo mese. Consideriamo oggi va di moda parlare di un lockdown di circa un mesetto in cui il paziente può girare per casa fare piccole attività quotidiane autonomo su se stesso ma sicuramente ha qualche limitazione dal primo secondo mese con della buona fisioterapia poi si può riuscire nella sua vita sociale e anche lavorativa. Vabbè, questo per fortuna. Allora diamo in 30 secondi professore dei consigli proprio per mantenere in buona salute la nostra schiena. La nostra schiena è sana sia che sia preso di un'altra dritta sia che abbia una piccola scoliosi perché ce l'ha addirittura il 30% delle persone quindi mantenere fare in modo che queste piccole scoliosi non peggiorino durante l'età adulta bisogna mantenere il peso fare un esercizio fisico regolare mantenere quindi la muscolatura e la postura chi fa un lavoro sedentario fare molti esercizi posturali un esercizio fisico regolare un po' di sport e naturalmente in caso di dolore protratto non autocurarsi ma rivolgersi a uno specialista. Questo è importante mai autocurarsi grazie di cuore al professor Cesare Faldini per essere stato con noi questa mattina buon lavoro e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie.